Dopo la partenza di Tommasini in prestito alla Monopoli e con Vergani pronto a fine febbraio, c'è la necessità impellente di rinforzare l'attacco. Arriveranno probabilmente due punte per Sasanelli dell'Andrea, il Pescara è disposto ad aspettare sino a domenica. Trattativa al momento bloccata perché il club pugliese non è riuscito ancora a trovare un sostituto. Il Classe 2004, nelle immagini, è in scadenza con l'Andrea, non rinnoverà ed è già d'accordo verbalmente col Delfino, contratto sino al 30 giugno 2027. Dellicarri punta a tesserarlo da subito. Se ciò non fosse possibile, Sasanelli firmerebbe comunque col Pescara il primo febbraio in vista della prossima stagione. Sondate naturalmente altre piste, si torna a parlare di Spalluto al momento e solo un'ipotesi e nulla più. Obiettivo mezzala, tramontata in via definitiva la possibilità di ingaggiare il 24enne mancino Valerio Mastrantoni, non è in uscita dalla Cittadella. Peccato perché tra i profili finora trattati sarebbe stata per caratteristiche la mezzala perfetta per il calcio del Boemo. Mastrantonio ha infatti corsa, piede e fisico. Nessuna novità su Meazzi, qualche speranza in più per Blanco del Como e Greco del Vicenza. A Cupone sono concretamente interessate due società di C e un club cadetto, la Feral Pisalò. L'attaccante Salentino partirà solo se dovesse arrivare un'offerta congrua. Il Pescara chiede 400.000 euro. In campionato imminente il match casalingo con Sestri Levante, sabato ore 18.30. Out da gasso, elongazione del quadricipite. Vergani, Pellacani e Accornero. Salvo imprevisti scelte praticamente già fatte. Un solo probabile cambio rispetto ad Arezzo. Milani per Moruzzi. All'Adriatico prima la matricola Sestri, quindi il Pineto. Sabato 3 febbraio alle 20.45. Così Gianmarco Cangiano, 5 gol in campionato, 2 in Coppa Italia, al microfono di Orlando D'Angelo. A leggerle sulla carta sembra un'occasione veramente molto ghiotta. Certo, noi sono un'occasione queste partite, soprattutto perché siamo in casa e dobbiamo dare il massimo, perché dobbiamo recuperare punti e quindi siamo molto concentrati. Adesso bisognerà provare a scardinare delle difese che si presuppone, si presenteranno molto basse, molto arroccate e cercare di non farvi sfondare. Certo, noi comunque sappiamo, noi ci lavoriamo tanto come lavoriamo anche su altre cose, quindi comunque l'importante è approcciare bene la gara da squadra come abbiamo fatto comunque l'ultima partita e dare il massimo. Preferibile per ora vivere alla giornata, cercare di migliorare, raccogliere i frutti partita dopo partita, oppure fissarsi davanti questo grande traguardo e quello di arrivare almeno al terzo posto? No, certo, noi puntiamo al massimo, puntiamo a fare il massimo dei punti che riusciremo a fare, al terzo posto e di lottare ogni partita per i tre punti. Gianmarco, la tua stagione a livello personale, 21 presenze, 5 gol in campionato, bei numeri, la doppia cifra è un obiettivo raggiungibile a cui ogni tanto pensi? Sì, 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 certo, ci penso, ci penso. Senti, lavorare con Zeman questi primi mesi, come è stato? In cosa ti stai arricchendo? Sicuramente su tante cose, sul lavoro, sul lavoro soprattutto, perché è una crescita, è sempre una crescita a livello fisico che non ho mai fatto così tanto, quindi ovviamente all'inizio bisogna un po' abituarsi, però poi comunque si spera di arrivare al massimo fisicamente, però su tante cose diciamo. I migliori anni della nostra vita Infine, ma non certo per ordine di importanza, sinceri ed affettuosi auguri a Giovanni Galeone, che oggi compie 83 anni, legame indissolubile con la città di Pescara, due promozioni in A indimenticabili, quella più in attesa, irripetibile per le modalità datata 1986-87, squadra allestita per le C, ripescata in B a spese del Palermo e protagonista di un'autentica favola. Correone, 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 Correone!